freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance ci siamo facciamo finta di avere voglia di ricominciare raggruppiamoci nell'ombra piano piano va tutto in ombra abbiamo ordinato questa cosa stamattina la nuvola oggi pomeriggio un'ombreggiatura chiamerei sul palco Deborah Ugolini che ci parla del percorso magico dalla radio al podcast e rimbalzo di che cosa vi parlo che cosa può imparare la radio dal podcast ma soprattutto che cosa può imparare il podcast dalla radio sono felicissima di parlare di radio ho sempre l'ansia inutile siamo in pochi siamo tranquilli ma c'ho sempre l'ansia quando inizio respiro come ieri sera lo dicevo a Lara dicevo quando devi parlare mi raccomando respira poi io non lo faccio quindi ok sono felicissima finalmente di parlare di quella che è la mia più grande passione che è la radio se qualcuno di voi ha mai fatto radio o ha conosciuto qualcuno che ha fatto radio anche una sola volta come stai dietro a un microfono di una radio una volta ti entra dentro qualcosa che non esce mai più entra una passione che è unica e da dove viene allora mi sono chiesta perché poi se pensiamo al successo che hanno i podcast negli ultimi anni qualcosa in comune ci deve essere e quindi ho cominciato a farmi qualche domanda partendo da che cosa dalla magia che secondo me fa parte dello strumento radiofonico immaginate quando la radio non esisteva arriva la radio ci sono queste scatole all'epoca molto grandi da cui esce musica da cui escono voci voci che non sono più collegate a delle persone che stanno parlando in quel momento quindi c'è una voce ma non c'è una persona che parla è la prima volta che succede uno scollegamento di questo tipo quindi le prime persone che hanno ascoltato le prime radio hanno assistito a un processo che era magico perché c'era un po di magia ma nonostante tutto noi oggi lo sappiamo insomma le onde sonore tutto quanto ma alla fine c'è sempre dentro di noi credo in me perlomeno c'è credo che ci sia anche molte altre persone quel qualcosa che ci fa ancora stupire del fatto che stiamo sentendo una voce e non vediamo chi ci parla è uno stupore che per esempio col video non c'è perché comunque ci riporta ad una realtà che è congruente con quello che noi siamo abituati a vedere mentre quando ascoltiamo solamente la voce questa come dire questa congruenza viene meno la magia non c'è poi solo per quello è un po come quando quando ci si chiede è più bello il libro è più bello il film la maggior parte delle volte più bello il libro un po perché comunque in un libro uno ha tutto lo spazio che vuole per elaborare una trama e di solito in un film come dire ci sono delle tempistiche da rispettare altrimenti poi la gente si rompe le balle e non non è che dici il libro il film aspetta lo lascio lì adesso con le serie funziona esattamente così infatti le serie piacciono un sacco secondo me per quello perché danno più spazio ma in linea di massima perché piace il libro perché il libro lascia libera la mente la mente lavora noi leggiamo e quando abbiamo il libro noi abbiamo una qualcosa di scritto un foglio un kindle un delle cose vere che tocchiamo le onde sonore non le vediamo non le tocchiamo quindi la voce stimola la fantasia ancora di più perché non abbiamo nemmeno il mezzo fisico cioè esiste il mezzo fisico ma noi non abbiamo una percezione sensoriale che ci porta i contenuti che porta i contenuti direttamente a noi quindi la magia è un po questo la radio è cambiata tanto io facendo radio lavorato in piccole radio locali diciamo che rispetto a quando c'è stato il boom delle radio libere le cose sono cambiate molto prima di tutto perché la radio è un media che è stato sempre molto sottovalutato quindi non ha avuto mai il giusto riconoscimento dal punto di vista degli investimenti non ci credeva chi la faceva per primo anche se io le pubblicità più belle le ho sentite per radio perché chi scrive le pubblicità per le radio e ha solo la voce fa delle cose secondo me stupende ho sentito cose meravigliose da 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 piegarmi in due dalla da ridere una era la patex mille chiodi che poi ve la racconto alla fine se ci abbiamo tempo e quindi che cosa è successo è successo che alla fine la radio la faceva chi l'amava proprio perché comunque chi fa radio ama fare radio ed è disposto a farla a qualunque costo quasi pagando per farla e momenti ci si chiede proprio quello quindi un po' mancano gli investimenti dappertutto nelle piccole radio locali sono sono spariti prima che che in altri luoghi è successo che i contenuti comunque dovevano essere fatti e quindi cosa si faceva si dava lo spazio ai quei contenuti che erano gratuiti non importava che fossero fatti bene che fossero professionali che fossero coerenti o meno col palinsesto che si decideva di mandare in onda e tra i contenuti grat gratuiti ci sono dei programmi fatti da persone bravissime competenti professionisti della radio che fanno programmi e le mandano in giro a tutte le radio locali per avere un po di pubblicità per passione per diffondere un particolare tipo di messaggio un particolare tipo di musica e poi c'è chi si lancia così a caso e quindi c'è stato un abbassamento generale della qualità questo è successo anche a livello nazionale oggi se fino a qualche anno fa uno speaker radiofonico veniva chiesta un'edizione impeccabile un modo di parlare corretto un italiano perfetto una conoscenza musicale non indifferente perché ricordate che adesso chi va in radio ha i minuti e i secondi dell'intro per parlare nell'introduzione dei brani non so se adesso magari chi non è dentro spiego un attimo molti brani la maggior parte i brani musicali hanno un'introduzione musicale ed è prassi nelle radio diciamo commerciali parlare sulla parte dell'intro come sulla parte di quella che si chiama l'outro cioè la parte musicale dove non c'è cantato e smettere di parlare esattamente quando inizia il brano cantato adesso c'è un computer che ti dà esattamente il conto alla rovescia dei secondi ma una volta bisognava conoscere il brano e quindi dj quelli bravi gli speaker quelli bravi avevano anche questa competenza oggi anche nelle radio nazionali le persone vengono scelte perché hanno magari fama guadagnata altrove e ci sono cose che importano sempre meno per fortuna non succede ovunque ci sono un sacco di trasmissioni radiofoniche ancora bellissime ancora classiche che ancora ci piace molto ascoltare per ascoltarle e per chi invece non trova niente di suo gradimento ci sono i podcast che hanno preso un po' il posto di quello che in radio non si fa più cioè fare delle chiacchiere interessanti e tenere compagnia le persone con dei contenuti interessanti però anche lì i podcast un podcast lo può fare chiunque come i video e lo sapete quasi tutti qui come la penso per i video e sui podcast sono forse ancora più talebana che sui video perché il contenuto audio è un contenuto molto personale molto delicato quando noi raggiungiamo le persone solo con il suono della nostra voce quando noi raggiungiamo le persone solo con l'audio noi non parliamo ad un pubblico plurale ma parliamo ad una moltitudine di singolari perché le persone che ascoltano è chiaro anche che ascoltavano la radio la maggior parte delle trasmissioni interessanti dove c'erano dei contenuti da seguire quindi quelli che si possono effettivamente paragonare ai podcast è chiaro che non parlo della trasmissione di radio dj dove vengono presentate le hit ovviamente è una cosa diversa ma chi ascolta chi ascoltava radio e chi ascolta podcast per i contenuti lo fa in modo privato spesso è in macchina oppure passeggiando con gli auricolari in cucina oppure in sala mentre stira o nello studio in bagno assolutamente se ti lasciano da solo beato te a me non mi succede mai però sarebbe sarebbe bello anche quello e io mi ricordo che la radio me l'ascoltavo in camera mia quindi fin da ragazzini da bambini comunque sono spazi personali che ci ritagliamo e questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione dobbiamo sapere come il pubblico a cui ci rivolgiamo ci sta fruendo perché non possiamo pensare di rivolgerci a un pubblico indistinto facendo un podcast noi stiamo parlando con le persone una alla volta dobbiamo essere perfettamente consapevoli di questo quando io facevo radio vi assicuro che è la stessa cosa anche dall'altra parte io mi ricordo che ero in studio c'ero io c'era il microfono mi sentivo in cuffia perché avevo bisogno sempre di sentire tutto quello che usciva e lì dentro con me c'erano tutte le persone che mi ascoltavano e ve lo giuro che io le sentivo li presenti una alla volta contemporaneamente che sembra una cosa assurda da dire ma è l'unico atteggiamento che vi permette veramente di arrivare ad un pubblico che vi ascolta in questo modo quando noi ascoltiamo un podcast o una trasmissione che ci piace quando seguiamo una persona e impariamo a conoscere la voce riconosciamo i picchi riconosciamo i sentimenti di questa voce riconosciamo gli errori riconosciamo tutto le persone che ascoltiamo diventano amiche diventano confidenti si crea con le persone che noi ascoltiamo solo in voce un rapporto che è diverso da qualsiasi altro rapporto si possa creare con altri mezzi proprio perché l'ascolto è molto personale molto privato quindi le persone io mi ricordo ho adorato Be My Diary di Rossella Pivanti che è la stella cometa della costruzione dei branded podcast e secondo me è inarrivabile e ascoltandola raccontare della sua vita io quando l'ho vista la sono andata ad abbracciare perché mi sembrava che fosse una mia amica da sempre perché succede esattamente questa cosa le voci diventano familiari senza contare che anche noi tendiamo a lasciarci più andare chi magari come a me è successo non ha tutta questa voglia di farsi vedere non ha tutta questa sicurezza del proprio aspetto quando è in voce può essere qualcos'altro perché la bellezza di sapere di essere solo voce è una cosa, è liberatorio, è bellissimo diventi un'altra cosa non so come dire non hai più nulla e allora tutto deve andare lì ma ci deve andare però perché se non glielo metti non arriva quindi quindi per essere solo voce torno a parlare di una cosa di cui ho già parlato diverse volte ovvero del portato che cos'è il portato? il portato è l'intenzione di arrivare al nostro pubblico io come ho già avuto modo di dire anche diverse volte proprio sul palco del freelance camp ho avuto modo di imparare il portato dal mio insegnante di canto jazz che mi diceva quando cantate voi dovete arrivare con l'intenzione alle persone in fondo che devono sentire che state cantando per loro quindi il portato è la nostra intenzione di arrivare esattamente dove le persone ci stanno ascoltando in questo caso noi dobbiamo travaricare lo spazio ed andare oltre un microfono attraverso delle onde sonore che non si vedono in un orecchio in una cucina in un bagno in una macchina dove c'è una persona che ci accoglie come se noi fossimo sedute lì accanto a lei e a lui ed è una cosa bellissima perché è un'accoglienza così cioè ma ce la sogniamo tutti cioè è una cosa stupenda e quando sentite questa cosa va sicuro che arriva io non ve lo so dire come ma è una cosa che arriva è anche molto soddisfacente quando parliamo di podcast oltre a travaricare lo spazio dobbiamo scavalcare anche il tempo perché io prima parlavo di fare radio e in linea di massima quando si parla di fare radio si parla di fare una diretta quindi io parlo come adesso voi mi state ascoltando se da questo talk facciamo un podcast quando da questo talk tireremo fuori qualcosa o comunque se verrà fuori un podcast le persone che ascolteranno questo podcast non saranno qui e non avranno per esempio la possibilità di farmi domande o di rispondermi qualche giorno fa seguendo un incontro dove si parlava appunto di questa cosa ho fatto una domanda a uno speaker radiofonico chiedendogli quale fosse secondo lui la vera differenza fra la radio e il podcast e lui mi ha detto manca nel podcast la contemporaneità però su questo ci torno tra poco in realtà la contemporaneità manca anche in radio per quanto riguarda i programmi registrati la radio comunque ha fatto dei passi avanti da subito come sono usciti i primi siti internet c'erano già i programmi in radio nei siti delle radio delle radio principali quindi i primi podcast in realtà sono stati quelli le radio sono state le prime ad avere i profili social a interagire avevano ad usare gli sms quando ancora c'erano le telefonate voglio dire l'interazione c'era con le lettere io scrivo scrivevo le lettere rcb a radio stelle bolognese sì sì e quindi insomma la contemporaneità manca se parliamo di diretta ma non è detto che non si possa supplire intanto dalla radio al podcast che cosa ci dobbiamo portare dietro secondo me ci dobbiamo portare dietro qualcosa che ci aiuta prima di tutto saper parlare che non vuol dire questa è la stessa cosa che avevo detto l'anno scorso per il video la stessa cosa bisogna sempre sapere parlare bisogna che se vogliamo comunicare la prima cosa è che gli altri ci capiscano è fondamentale è inutile che vogliamo comunicare parlando un linguaggio che non è comprensibile non significa che non dobbiamo avere accenti regionali o che dobbiamo avere una dizione perfetta ma sicuramente meno siamo caratterizzate o caratterizzati e più largo è il nostro pubblico più è facile che il nostro pubblico si riconosca con noi se io parlo in romagnolo stretto mi capiscono i romagnoli se faccio una battuta in dialetto ridono i romagnoli gli altri potrebbero non dico sentirsi esclusi ma sicuramente non si sentono coinvolti quindi l'idea è quella di coinvolgere sempre più persone in ogni caso aprire la bocca articolare tirare fuori e usare il microfono per bene ma questo l'abbiamo già detto da un po' quindi saper parlare è sicuramente una cosa utile dopodiché un buon ritmo un buon ritmo cosa vuol dire vuol dire che non dobbiamo essere noiose vuol dire che se stiamo in due dobbiamo riuscire a darci gli attacchi tenendo proprio un ritmo anche musicale e questo in realtà lo possiamo anche costruire perché comunque se facciamo un buon montaggio il ritmo ce lo diamo tranquillamente quindi nel momento in cui non siamo in diretta per chi non è abituato a fare una diretta il ritmo si fa e quindi arriviamo all'altra cosa c'è un buon montaggio che oltre a darci una mano per scandire il ritmo che cosa ci permette di fare di aggiungere quello che ci pare aggiungere degli effetti ironici possiamo aggiungere una musica di sottofondo una sigla d'apertura una sigla di chiusura possiamo inserire delle parti intermedie soprattutto se il podcast è abbastanza lungo possono essere utili per orientare le persone che ci stanno ascoltando così sanno a che punto sono e in ogni momento sanno ah guarda siamo sono passati i primi cinque minuti ah guarda siamo a metà ah tosta per finire questa è sempre una cosa utile naturalmente qui andiamo sull'ovvio una buona idea cioè è chiaro che se abbiamo l'idea del secolo e facciamo delle cose che non ha ancora fatto nessuno e che hanno successo ma lì è come dire fammi un video virale Pasini fammi un video virale si fa no non si fa bisogna avere del culo cioè devi avere l'idea poi devi sperare che l'idea vada bene non è detto che succeda possiamo però sicuramente puntare sempre sulla nostra professionalità e quindi sul fare quello che sappiamo fare e farlo nel modo più sincero possibile perché la verità e la sincerità sono uno strumento di marketing veramente impagabile e per finire la consapevolezza del mezzo quello che vi dicevo prima dovete assolutamente sapere chi vi ascolta dovete sapere come vi ascolta e dovete mettervi in quest'ottica quindi non potete pensare di fare un podcast pensando di parlare ad un pubblico che vi guarda su youtube o che vi legge su instagram o su facebook o su un blog è un'altra cosa nel momento in cui fate un podcast come nel momento in cui trasmettete in radio ve lo ripeto state parlando ad una moltitudine di singolari questa è la prima cosa da tenere in considerazione tornando dal podcast alla radio come si fa in questo modo quindi riportando un po' delle cose riprendendo le cose della radio portandone nel podcast dicevamo manca l'interazione manca l'interazione e infatti che cosa è successo c'è una domanda il mercato risponde clubhouse ha aperto le voice room facebook arriverà a breve telegram anche l'ha fatto adesso insomma a breve arriveranno questi spazi interattivi dove si potrà comunicare in modo insomma con la voce allora io e monia che è là giù in fondo abbiamo sperimentato questa cosa abbiamo detto vogliamo fare un podcast facciamo un podcast non sapevamo come fare non avevamo tempo ma dai proviamo clubhouse io tra l'altro con l'account di Filippo perché io non avevo non avevo un account Apple un Apple ID e quindi l'ho fatto col suo e abbiamo cominciato e cosa abbiamo scoperto abbiamo scoperto che in realtà l'interazione se vuoi la puoi creare perché comunque oggi veramente i mezzi li abbiamo quindi noi siamo partite con un podcast che non era un podcast perché erano delle dirette su Clubhouse che sono diventate dei podcast e poi nel momento in cui abbiamo deciso abbiamo parlato per decidere come volevamo promuoverci e come volevamo comunicare col nostro pubblico abbiamo deciso che volevamo invece di aprire una pagina Facebook abbiamo aperto solamente il gruppo perché quello che ci interessava era creare una community attorno ai temi che noi stavamo trattando perché per noi la cosa importante erano le tematiche che noi trattavamo e il metterci in gioco io e lei più di una persona mi ha detto mi ha colpito molto quanto vi siete aperte quanto avete regalato di personale e questo mi ha stimolato poi a parlare mi ha stimolato a mettermi in gioco a mia volta e e poi abbiamo aperto queste voice room appunto su Telegram dove aprire il confronto sempre su quelle tematiche con tutti queste voice room sono state un'esperienza sorprendente perché abbiamo riscoperto quello che qui in Romagna ho appena detto che non devo parlare di regionalismi ma lo spiego si chiama il Trebo che è le chiacchiere fuori dalla soglia di casa la sera d'estate oppure si faceva c'era la sfugliaree una volta quando sfugliavano le pannocchie e si facevano delle chiacchiere e quindi quello è quello che abbiamo scoperto che soprattutto per le donne sono spazi che sono sempre troppo pochi io e la Moni ovviamente la direttiva è quella di dare sempre più spazio alle donne e come è andata fino adesso noi siamo molto contenti vero? e poi si vedrà grazie a tutti per saperne di più visita il sito www.freelancecamp.net e iscriviti alla newsletter riceverai subito 6 lezioni per diventare freelance migliori una raccolta di alcuni fra i talk più interessanti e utili del freelance camp e iscriviti al canale